Una buona giornata, un ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi è lunedì 21 settembre 2020 e questa è la rassegna stampa che apre la settimana, apre anche una nuova stagione, apre l'autunno e dunque ci ritroviamo come sempre per sfogliare i giornali che tra poco vedremo qui sul nostro touchscreen ma prima come sempre il calendario e le previsioni del tempo. Il calendario oggi ci indica San Matteo apostolo ed evangelista, la festa di San Matteo detto anche Levi chiamato da Gesù a seguirlo lasciò l'ufficio di pubblicano o esattore delle imposte e eletto tra gli apostoli scrisse un Vangelo in cui si proclama che Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo ha portato a compimento la promessa dell'Antico Testamento. Il sole è sorto alle 6 e 57 pochi minuti fa e tramonterà alle 19 e 10. Il tempo previsto per oggi lunedì 21 settembre dalla protezione civile delle Marche in questo bollettino che vi mostriamo con la grafica che potrete trovare sul sito della regione Marche ci mostra una regione con cielo irregolarmente nuvoloso e locali addensamenti più intensi e con precipitazioni sparse dalla mattinata localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature sono in diminuzione. Per quanto riguarda la giornata di martedì avremo ancora piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale e temperature senza variazioni di rilievo. Qualche locale piovasco anche nelle zone interne nei prossimi giorni nella parte centrale di questa settimana. Oggi si parla ovviamente sui quotidiani locali ma così come quelli nazionali del referendum ma anche laddove si vota per le regionali anche di appunto come sta andando questa tornata elettorale. Oggi si vota lo ricordiamo da adesso praticamente i seggi sono aperti per chi ci segue in diretta dalle 7 quindi da ormai due minuti e si potrà andare a votare fino alle 15 quindi se non lo avete fatto l'invito è di andare a votare. E cominciamo con i giornali. Il titolo d'apertura del Corriere Adriatico. Il giorno del governatore. Regionali nelle Marche l'affluenza oltre il 42% si vota anche oggi fino alle 15. Tensioni e file ai 6G. A Santa Veneranda un quartiere di Pesaro sanzionato un uomo che non voleva indossare la mascherina perché diceva o gli anticorpi. A centro pagina invece violenza nei centri storici. Risse, Afano e Durbino. 5 le persone denunciate. Tamponi ai bambini. A Pesaro va rafforzato il percorso scuola. A Mondavio gli ecovolontari ripuliscono l'area di San Michele. E sempre a Pesaro Carriera apre ancora. Nuova Testa del Re e Sesto Ristorante Chic. Carriera è un ristoratore. Spiaggia libera, la rivincita, salvataggi e più sicurezza. Incoming ha vigilato al meglio su tutta la costa fanese. Bando in scadenza. Nel 2021 si aumentino le torrette. Questa invece è la prima pagina del Restore del Carino. In apertura Mangialardi si aggrappa l'affluenza. Ieri si è votato di più. Qui è ad Ancona. Più qui che nel sud della regione. Oggi il verdetto sul nuovo presidente. Intanto a centro pagina voglia di sognare. La VL a Villa Cattani. Amadori a Repesia. Portaci ai play-off. Ieri la festa ad una settimana dal via del campionato. Il coach dice vogliamo rendere orgogliosi i tifosi e naturalmente gli sponsor. Buone notizie sul fronte Palasport. Dall'8 ottobre l'ipotesi del 30% degli spettatori. I seggi al tempo del Covid. Padre e figlio scurtatori. Uno si alza con la febbre. Dunque sono stati sostituiti entrambi. Anche perché vivono tutti e due nello stesso appartamento. Sempre a Fano. Maxi Rissa. Ragazzini protagonisti. E frasi shock contro Lucia Nibali. Scovato l'odiettore social. Per lui una denuncia. L'impegno mantenuto è quello di Anas. Tutor. Limite alzato dopo la pioggia di contravenzioni. Quello sottomonte che adesso passa da 50-70 km orari. E quattro positivi in provincia. Un ristorante dove una cameriera ha contagiato il cuoco. Andiamo sulle pagine interne. E vediamo subito i titoli. A pagina 2 del Corriere Adriatico. Il primo giorno al voto. Più di quattro marchigiani su dieci. Affluenza. Restano otto ore. La grande incognita in queste elezioni segnate dall'incubo coronavirus era proprio l'affluenza. Che nelle Marche al termine del primo giorno di voto si è mantenuta bassa. Ma più o meno in linea con le elezioni di cinque anni fa. Quando però il rischio Covid non si sapeva nemmeno cosa fosse. e soprattutto l'Election Day era concentrato solo nell'ultima domenica di maggio. Così la speranza di superare il 49,78% di votanti del 2015 è riposta nelle ultime otto ore. Quelle che stiamo iniziando a vivere adesso e che separano i marchigiani dalla chiusura dei seggi fissata alle 15 di oggi pomeriggio. Al termine dello spoglio delle schede che avverrà subito dopo quelle del referendum viene eletto presidente chi prende più voti dal momento che si tratta di una elezione a turno unico senza dunque il ballottaggio. Ma entra in Consiglio regionale anche il miglior perdente cioè il candidato presidente della coalizione che ha preso la seconda cifra elettorale. Sulla pagina del Carlino Nelle Marche, il titolo Nelle Marche oltre il 42% ha scelto termoscanner agli ingressi e anche vigili che controllavano l'uso delle mascherine non sempre regolare cioè quelli che le portano praticamente sotto il mento quindi una sorta di fanno finta e poi il Carlino racconta un po' alcuni episodi, alcuni aneddoti avvenuti registrati ai seggi dove per esempio ad Ancona una donna si è presentata al seggio numero 15 della scuola Faiani con una matita portata da casa voleva usare la sua perché così, dice lei aveva la certezza di averla toccata soltanto lei naturalmente il presidente di seggio gliel'ha requisita a Senigallia invece un candidato al Consiglio Comunale per il centrodestra è entrato nel seggio allestito alla scuola elementare Puccini indossando la mascherina con il simbolo elettorale del suo partito l'uomo indossava anche dei braccialetti con slogan elettorali è stato segnalato agli agenti di polizia che lo hanno invitato a coprire i simboli nel rispetto del silenzio elettorale invece nel Piceno ha votato anche il sindaco Marco Fioravanti ancora ricoverato in ospedale dopo il malore di una decina di giorni fa l'exit poll subito dopo la chiusura quindi alle 15.01 praticamente dopo la chiusura dei seggi l'exit poll, l'intenzione di voto prima c'è il referendum poi le regionali alle 15 terminano le operazioni di voto domani lo spoglio invece per le comunali vediamo velocemente qui sul Corriere Adriatico come andò nel 2015 i risultati del voto vinse ovviamente Luca Ceriscioli del centro-sinistra con il 41,7% ma candidati a diventare presidente alla presidenza della regione c'erano anche Giovanni Maggi del Movimento 5 Stelle che prese il 21,78% e c'era anche Francesco Acquaroli l'attuale candidato di Fratelli d'Italia Lega e tutta la coalizione di centro-destra che quella volta 5 anni fa prese il 18,98% non tutti se lo ricordano questa cosa però anche perché poi erano tutti un po' presi da Luca Ceriscioli e quindi ormai era quasi scontata la sua elezione già Mario Spacca, il governatore uscente con 14,21% e Edoardo Mentransti di sinistra radicale aveva votato nel 2015 il 49,78% dei marchigiani aventi diritto e adesso invece andiamo a vedere come è stata l'affluenza in provincia di Pesaro e Urbino e devo dire che qui la situazione è buona perché nella provincia di Pesaro e Urbino la partecipazione è stata al di sopra della media nel corso di tutta la giornata a mezzogiorno aveva votato il 15% contro il 13% della Regione e alle 19 invece il 35,61% dei pesaresi mentre la media regionale era del 32,97% Ho gli anticorpi non voglio votare con la mascherina siamo sulle pagine del Corriere Adriatico di Pesaro di oggi l'uomo si è presentato come dicevo senza mascherina in barba alle regole anti-covid quando al seggio glielo hanno fatto notare prima garbatamente poi con un piglio maggiormente decisionista lui ha detto che non l'aveva portata né l'avrebbe indossata perché stava bene e aveva gli anticorpi ad un certo punto glielo hanno anche gliene hanno offerta una al seggio una nuova da indossare il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto ma lui ha continuato a rifiutarla dunque è partito un febbrile giro di telefonate tra Presidente di seggio e organi preposti alla fine l'uomo è stato fatto allontanare dalla sezione elettorale e dalle forze dell'ordine che erano lì presenti fin dal mattino non senza però prima aver fatto un verbale con la multa conseguente sempre dalle pagine dei giornali che raccontano questa mattina un po' come è andata questa prima giornata di votazioni padre, figlio, scrutatori siamo sul carino di Pesaro uno però ha la febbre e quindi sono stati sostituiti la giornata si è aperta dunque con questo imprevisto al seggio di Vianitti a Pesaro dove sarebbero dovuti essere in servizio come scrutunatori padre e figlio ma il primo come Presidente il secondo come Segretario il giovane si è però svegliato con la temperatura superiore di 37,5 e così entrambi sono stati sostituiti visto che vivono nello stesso appartamento intanto qui vedete le fotografie di Francesco Acquaroli è in alto qua che ha votato al seggio numero 6 nella scuola nella ex scuola della frazione di San Girio a Potenza Piccena in provincia di Macerate sotto Maurizio Mangialardi candidato governatore del centro-sinistra che ha votato ieri mattina intorno alle 11 nel seggio 23 della scuola Puccini a Senigallia da Fano invece la mia sezione dove è finita giro dell'Occa all'ex Carducci sapete l'ex Carducci la scuola al campus scolastico è chiuso anzi tra l'altro verrà demolito quindi proprio non c'è più speranza a Fano qualche votante in difficoltà per i seggi che sono stati spostati al Torelli ma poi insomma alla fine tutto è andato per il meglio la protezione civile è invece in campo per gli elettori in quarantena le urne mobili in funzione anche questa mattina c'è anche il voto a domicilio per i pazienti positivi in quarantena domiciliare che è stato garantito a Pesaro e nel resto del territorio grazie all'impegno dei volontari della protezione civile andiamo invece adesso a vedere la pagina 4 del resto del Carlino frasi shock contro Lucia Annibali denunciato si nascondeva sui social dietro un nome falso la polizia postale però ha identificato un 53enne di Roma come l'autore di insulti su Facebook contro la parlamentare l'uomo inneggiava Varani l'ex finanziato di Lucia Annibali che le ha gettato o meglio che ha progettato architettato l'aguato con l'acido fuoco invece a Fano un cuoco è stato contagiato da una cameriera altri 4 positivi in provincia ieri scrive il resto del Carlino altri 31 positivi al coronavirus sono su 921 nuove diagnosi registrati nelle marche nelle ultime 24 ore 15 in provincia di Ancona 10 in provincia di Ascoli Piceno 4 nella nostra provincia 2 in quella di Macerata tra i 4 della provincia di Pesurubino da segnalare il caso che coinvolge una cameriera e il cuoco di un ristorante di Fano quest'ultimo il cuoco è rimasto contagiato gli altri 3 casi riguardano invece un 35enne di Pesero contagiato dopo un contatto stretto con il padre e un 16enne è divenuto positivo con il contatto stavolta con la madre positiva e poi c'è un 15enne di Fermignano anche qui anche lui con un contatto stretto adesso lo dicevamo infatti lo scrive anche il Corriere Adriatico in questo articolo si scaldano i focolai domestici che detta così potrebbe essere anche una cosa romantica ma in realtà non lo è affatto un contagio su 5 arriva da casa ieri 14 casi su 31 nelle Marche dovuti a cluster familiari due fratellini infettati dal padre nel Lanconetano i ricoveri per Covid invece sono scesi da 25 a 24 con due pazienti in terapia intensiva a Pesero ma come abbiamo già detto nella mattinata di sabato le due persone alle quali noi facciamo i più calorosissimi auguri e preghiamo anche per loro sono due persone sui 40 anni ma che hanno già patologie pregresse Tutor cambiamo argomento cambiamo pagina Tutor il limite di velocità è salito a 70 dunque l'ANAS come ente proprietario della strada la provinciale la statale Adriatica ha voluto i 50 km orari per circa un mese il mese più caldo il mese di agosto dove come vedete da questa fotografia si parcheggia per andare al mare sia a destra che a sinistra della carreggiata quindi immaginate voi ad andare a 70 80 km orari basta che uno apre lo sportello fa una strage e allora il 50 era più che corretto ora però visto che al mare non ci si va più la statale è tornata ad essere a tutti gli effetti una strada comunque importante di collegamento tra Fano e Pesero senza auto parcheggiate ai lati ora i 70 è più che più che logico e quindi da oggi anzi da venerdì scorso è stato rimesso questo limite alzato questo limite a 70 quindi 20 km in più quasi mille multe quelle elevate però dall'8 agosto ad oggi con il rilevatore della velocità media nel tratto appunto di Sottomonte la pagina di Fano del Corriere Adriatico Rissalpincio denunciati 5 giovani coinvolti 2 italiani e 3 albanesi dopo il tafferuglio indagini lampo della polizia carabinieri e della municipale grazie anche alle telecamere di sicurezza sotto le bancarelle del sabato tornano in via Malatesta a Fano tutto però dipenderà dal rispetto delle norme nuovi rilievi in piazza 2 fanesi contro 8 albanesi titolo del Carlino botte da orbi feriti al pincio uno dei fratelli aggrediti chiama in soccorso il congiunto e si scatena il finimondo tutti sono stati ripresi dalle telecamere all'inizio erano 2 contro 8 quasi tutti minorenni 6 di loro erano albanesi 2 i fanesi fratelli uno dei quali ventenne che è intervenuto nella rissa solo in un secondo momento per spalleggiare il congiunto il fratello più piccolo il gruppo si è preso a schiaffi e cazzotti l'altra sera al pincio non c'era un motivo vero quella parola forse di troppo che è scoppiata che ha fatto scoppiare la rissa finita male per i due fratelli i fanesi che sono stati portati in ospedale per contusioni ed escoriazioni qua di fianco invece qui sotto la foto di Don Diego Fascinetti che è il nuovo parroco di Cagli e che è stato accolto da tutta la comunità ieri nella cattedrale gremita di gente alle 18 è avvenuto l'ingresso ufficiale del nuovo parroco che ha coadiuvato per tanto tempo Don Nazareno Bartolucci quest'ultimo è stato il titolare fin dall'agosto del 1986 quindi dopo circa 35 anni continuerà a collaborare con il nuovo responsabile con Don Diego ma insomma adesso giustamente si merita il suo riposo la cerimonia è stata presieduta dal Vescovo Armando Trasarti sicurezza alla rivincita della spiaggia libera invece è l'altro articolo che troverete sul Corriere di Fano di oggi Incoming ha assicurato salvataggi e misure anti-Covid con 9 presidi e 25 operatori da Fosso Segliore a Torrette un solo decesso per Malore diversi gli interventi con buon esito l'associazione che appunto si chiama Incoming dice e chiede più postazioni però per la prossima estate impennata di utenti visto che gli stabilimenti hanno dovuto fare i conti con una riduzione di posti dunque la rivincita giustamente della spiaggia libera anche perché appunto le spiagge in concessione hanno dovuto limitare e diminuire i posti gli ombrelloni la BCC ritrova le famiglie 250 euro ai 145 nuovi nati si è tenuta la manifestazione con la consegna dei bonus bebè che prosegue ormai da una decina di anni la IO un amo poteva ucciderla parliamo di questa tartaruga che ha preso il nome della barca che l'ha salvata la tartaruga segnalata e curata aveva in bocca un uncino intervento della Capitineria di Porto che l'ha affidata poi alla fondazione Cetacea alla Madonna delle Grazie invece l'acqua santiera anticontagio a Pesaro l'acqua santiera è stata installata a Pesaro nel santuario della Madonna delle Grazie basta metterci la mano sotto poi una fotocellula che rileva la presenza della mano apre e fa scendere un po' di acqua che è appunto l'acqua benedetta con rischio zero contagio poi c'è anche la notizia di un lutto che ha colpito il Vescovo di Fano Trasarti è morto il fratello Argiso Argiso fratello del nostro Vescovo è tornato alla casa del padre la comunicazione è stata data dalla diocesi di Fano nel primo pomeriggio di ieri le esequie saranno celebrate oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Campofilone a cui però non potranno partecipare più di 15 sacerdoti a ricordare la morte del fratello del Vescovo il vicario generale Don Marco Presciutti che appunto ha ricordato anche la vicinanza a tutta la famiglia in particolare al Vescovo in questo momento difficile di dolore e di distacco da Vallefoglia rush finale per il piano antibuche Vallefoglia conclude le asfaltature ecco le fotografie per le strade che non sono rientrate nel programma gli interventi sono rimandati però al prossimo anno a Urbino basta uno sguardo di troppo risse in piazza tra giovanissimi Tafferuglio fra due gruppi le forze dell'ordine hanno fermato alcuni ragazzi durante la serata erano stati effettuati controlli in diversi locali che hanno poi deciso di chiudere e poi oggi in streaming la nuova lezione del professor Maurizio Viroli gli incontri rettolari rettolari UniURB con l'etica del servizio questa è invece la fotografia del giovane di notte ad Urbino in un'immagine dell'ottobre del 2019 quindi quando ancora di Covid non se ne parlava affatto Pallino Schieti la strada ferita diventa un caso PD e viva Urbino attaccano la gestione di Gambini spesi soldi per niente dalla Valle del Cesano invece gli eco volontari sono in campo scesi in campo per una sensibilità green cioè verde per dopo Mondavio in azione per ripulire la zona di San Michele al fiume e dunque ancora una volta questo gruppo di volontari vedete con tanti sacchi questi sacchi di plastica neri enormi che tutte le volte che escono si riempiono e vengono riempiti di spazzatura quella spazzatura che in realtà non avrebbe dovuto essere lì in mezzo ad un bosco in mezzo ad un parco ma c'è perché purtroppo c'è la maleducazione della gente che in quel parco ci va e chissà a fare che cosa poi il team visto che poi sporca il team di Ceccacci si aggiudica la straruzzola il Covid non ha fermato l'edizione numero 23 della popolare gara siamo a Mondolfo da Senigallia spara musica a tutto volume in garage e minaccia i carabinieri con un coltello un quarantenne di Marina di Montemarciano arrestato per resistenza e denunciato per disturbo alla quiete pubblica mentre qui sempre sulla pagina di Senigallia la movida esagerata c'è anche una denuncia il direttore dell'hotel City Cavallaro si presenta in caserma atti vandalici abuso di alcol schiamazzi è inaccettabile dice lui e quindi stanco ed esasperato per questa movida fuori controllo ha denunciato tutti palestra inagibile invece parliamo di ginnastica artistica sempre da Senigallia campionati dunque in hotel un'albergatrice ha salvato in extremis il campionato per le 300 atlete della ginnastica artistica della Cisanella rimaste quest'anno senza palestra e siamo dunque come avete capito anche alla pagina dello sport visse c'è il pericolo sciopero lo sciopero dei giocatori intanto gli abbonamenti tetto di tesserati potrebbe saltare la prima al Benelli sabato contro il Legnago ecco i prezzi 130 euro prato e laterale 260 euro per la tribuna centrale potrebbe saltare perché appunto come se non bastasse il covid ora sopra la serie ci pende pure lo sciopero dei calciatori da settimane la sua calciatore l'associazione insomma che le rappresenta in stato di agitazione per l'imposizione per l'imposizione della Lega Pro del tetto massimo di 22 tesserati professionisti in rosa misura questa che ovviamente rischia di lasciare senza squadra molti calciatori nel giro NB di serie C alleggia già un consistente numero di persone che è favorevole allo sciopero e domani è previsto un incontro fra l'Aice l'associazione appunto dei calciatori e la Lega Pro che chiarirà se la prossima la prima di campionato sarà in pericolo oppure oppure no sotto invece si parla di Alma Juventus Fano tanti buchi nella maglia granata perché tanti buchi perché nonostante le amichevoli vinte dunque il morale che comunque è alto c'è la consapevolezza che nell'organico manca appunto qualche giocatore ecco perché i buchi nella maglia e dunque l'organico è da completare speranze per il ritorno di Dofanari intanto ma insomma pur stando con i piedi per terra perché comunque il Fano lo ricordiamo ha vinto contro l'Ascoli 2 a 1 e contro il Ceseno 1 a 0 quindi ci sono tutte le premesse per poter sperare che con una squadra così si possa fare un buon campionato però evidentemente si vuol fare di più si vuole qualche certezza in più e dunque bisogna riempire ancora qualche casella vuota dell'organico sul fronte invece della VL parliamo di pallacanestro la VL non scherza titola il Carlino coach portace playoff è la richiesta di Amadori e Arepegia Arepegia è l'allenatore lo vedete qui lui dice amo le sfide come questa e dunque nella cornice sontuosa Villa Catani Stewart per la presentazione a media e sponsor insomma si è tastato in qualche modo tastato con mano anche proprio l'entusiasmo che c'è dopo tanti anni di pena visto che la VL insomma non ha brillato moltissimo negli ultimi anni il debutto con Sassari ora conosciamo meglio l'avversaria saremo pronti meglio anzi voglio rendere orgogliosi dice ancora l'alleatore voglio rendere orgogliosi i nostri tifosi poi andiamo sull'ultima pagina della nostra rassegna stampa a Fenate che rivinci Tamisano questo è il Corriere qui è un'emozione speciale Moto2 Marini è quarto all'arrivo e resta in testa la classifica Rossi cade e poi si ritira una MotoGP Amara anche per Morbidelli la vittoria stavolta è andata a Vinales e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa allora oggi sarà una lunga giornata anche per noi di Fano TV sarà una giornata piena una giornata densa di appuntamenti come già saprete vi abbiamo già ricordato oggi a partire dalle ore 16 entreremo in diretta con lo speciale elezioni una maratona elettorale che si protrerà fino a questa sera fino a quando non avremo il nome del nuovo governatore della Regione Marche quindi il programma è in questi termini alle 15 ci sarà la diretta come sempre dalla nostra cappellina e quindi le preghiere le abbiamo mantenute perché la preghiera prima di tutto quindi però siccome alle 15 e 01 ci saranno gli exit poll oltre alla preghiera avremo in grafica sul canale 17 di Fano TV anche i due candidati anzi due o tre mi parlo abbiamo messo tutti e tre principali con le proiezioni quindi con i dati degli exit poll quindi non vi lasceremo senza informazioni in questo senso poi chiaramente essendo exit poll sono intenzioni di voto tutto può cambiare dalle 16 quando contiamo di avere già i primi seggi scrutinati chiaramente andremo in diretta da questo studio inizieremo a darvi un po' di numeri e saremo più o meno in grado di speriamo perché prima c'è il referendum da scrutinare comunque appena pronti vi daremo i primi numeri le prime proiezioni dopodiché avremo qualche collegamento avremo i collegamenti con i nostri ospiti con i nostri inviati li abbiamo mandati tutti ad Ancona chiaramente e poi avremo il telegiornale delle 20 e 30 che sarà sempre in diretta e che proseguirà con la maratona elettorale nel pomeriggio quindi partiremo alle 16 poi avremo di nuovo una pausa alle 17 e 30 e alle 19 e 40 quando vi manderemo in onda trasmetteremo il telegiornale nazionale ecco questo più o meno è il quadro della situazione cercheremo di informarvi in tempo reale su tutto sono giorni che facciamo prove su prove dunque cercheremo di tenervi sempre aggiornati su quello che riguarda appunto succede nei seggi elettorali quindi di darvi conto dello spoglio e quindi vivremo insieme questa questa elezione 2020 difficile del nuovo presidente regione con tutto il consiglio regionale io mi fermo qui tra poco la santa messa in diretta dalla santa casa di Loreto vi auguro una buona giornata e ci vediamo più tardi regionale regionale Grazie a tutti.